Conservare la carne in modo corretto è essenziale per mantenere la freschezza e garantire la sicurezza alimentare. Dopo l'acquisto, la carne deve essere conservata in frigorifero, idealmente a una temperatura tra 0 e 4 gradi centigradi e consumata entro pochi giorni. Se vuoi prolungarne la durata, la carne può essere congelata, ma è importante avvolgerla bene in pellicola trasparente o sacchetti ermetici per evitare bruciature da congelamento che comprometterebbero il sapore e la consistenza. Quando si tratta di scongelare la carne, è sempre meglio farlo lentamente in frigorifero piuttosto che a temperatura ambiente per evitare la proliferazione di batteri. Una volta scongelata, la carne deve essere cucinata entro 24 ore e non va mai ricongelata. Conoscere queste semplici regole ti permette di evitare sprechi e di gustare la carne nella sua migliore qualità, mantenendo inalterate le sue proprietà nutrizionali e organolettiche.